Sì, ma di cosa avete parlato? Ma non ci ammazziamo. Scusateci, scusateci. L'energia è stata un po' dei tempi, diciamo. Cento, certamente, perché è una questione energetica che riguarda soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Avete parlato anche di alleati. Grazie, arrivederci. Ho la mia polsa. Ho la mia polsa.